Che palle ma tu hai detto se lo vuoi mangiatelo cioè prendilo che c'hai facendo? Mi dai sto gelato per favore? Che cazzo fai? Ma poi te la metti get to money le guarda Twitch e dice che... Cosa sto facendo? Cioè sto mangiando un gelato in modo abbastanza Guardami negli occhi mentre mangi il gelato no scherzo dai vai mangiare il gelato? Dai non mi guardare